Domani, martedì alle 10, si svolgerà la cerimonia di intitolazione di una via a Letizia Colaianni. Si tratta precisamente della strada che congiunge via Luigi Monaco, di fronte all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia, con via Due Fontane, dove sorgeva la casa Colaianni. L'intestazione della via è stata fortemente voluta dall'Associazione Onde Donne in Movimento e dall'Associazione Toponomastica Femminile, che intendono valorizzare il contributo offerto dalle donne alla costruzione della società anche attraverso la toponomastica. Alle 10.30, quindi, subito dopo la cerimonia, nel plesso scolastico Rosso di San Secondo, si terrà un convegno dal titolo Vi raccontiamo Letizia. Inoltre, l'Associazione Onde Donne in Movimento fa sapere che, a bandito un'edizione speciale del concorso letterario Lettere a Letizia riservato a studenti e studentesse delle scuole di primo e secondo grado di Caltanissetta. Per partecipare al concorso si deve scrivere una lettera a Letizia con le modalità indicate nel bando. Le lettere dovranno essere inviate entro il 15 dicembre 2018 esclusivamente per via telematica a onde.concorsoletterealletizia.com in formato Word. Letizia riservato a studenti e studenti e studenti e studenti e studenti e studenti e studenti